Un accordo importante che noi abbiamo fortemente voluto perché la tutela della sicurezza dei nostri operatori in un momento soprattutto di contesto geopolitico mondiale, di estrema crisi, è estremamente importante. Noi dobbiamo tutelare le nostre imprese per i fenomeni di illegalità diffusa, quelle che sono le truffe, le pressioni di usuraggio, piuttosto che malversazione, piuttosto che furti. Ma nel contempo dobbiamo preoccuparci di mantenere la sicurezza in senso generale delle nostre città perché in un contesto di tranquillità e di sicurezza, torno a ripetere, le nostre imprese possono ben lavorare e prosperare. In un momento invece di assoluta precarietà determinata da fattori esterni, dall'attività dell'impresa, è difficile fare affari. Stiamo sui livelli che caratterizza tutto il nord Italia. Per quanto riguarda la microcriminalità non particolarmente allarmata, anche se ci sono delle situazioni che vanno attentamente monitorate per evitare che la crisi sia gravi. Molto è legato alla capacità dell'operatore economico di rapportarsi con le istituzioni e di denunciare tempestivamente quello che sta subendo. Ovviamente magistratura e forze di polizia da sole non sono capaci di contrastare il fenomeno se non c'è la collaborazione dei diretti interessati.